Ci si tiene per mano a lungo, quasi per sempre, ma quando si deve dire addio a una persona cara, desideriamo essere al vostro fianco con rispetto e dignità. In un momento di grande dolore, è importante sentirsi sostenuti. Noi siamo qui per offrirvi ascolto, assistenza e tutta la professionalità di cui avete bisogno, con umanità. Ascoltare e comprendere ogni vostra richiesta ed esigenza è la nostra priorità. Noi di Marinelli ci siamo. Grazie a tutti.